ciao a tutti ciao oggi cosa facciamo? giochiamo con il robottino oggi giochiamo con questo super gioco che è arrivato per il nostro compleanno vero? ed è il robottino da programmare e fargli fare il percorso che decidiamo noi facilmente programmabile è un gioco di sapientino che può andar bene dai cinque anni in su noi lo facilitiamo per diletta che ne ha solo quattro e vediamo di che cosa si tratta ci sono varie schede ci sono vari percorsi noi prendiamo quello più semplice e giochiamo insieme intanto facciamo amicizia col nostro robottino eccolo qui il nostro robottino dammi una mano eccolo qui il robottino lo facciamo vedere questo è il nostro robottino da qui sopra si programma il percorso che vogliamo fargli fare e adesso vediamo prepariamo intanto la scheda come potete vedere hanno vari livelli noi prendiamo ciao sono super top giochiamo con il tabellone 2 programmami usando le brecce sopra la mia testa scegli con chi giocare usando il tasto personaggio e premi ok ok intanto prepariamo il tabellone vediamo questo tabellone vediamo questo tabellone si aspetta è un super bellissimo tabellone tipo puzzle da costruire è tipo un puzzle è tipo un puzzle questo va qui poi questo ma qui giriamo lo giusto si sposta è un super bellissimo tabellone si sposta le altre dammi questa il lettone vai mettilo vai mettilo eccoci qua questo è il nostro tabellone di gioco adesso mettiamo il robottino sulla sulla casella di start esattamente lo facciamo vedere ciao robottino ciao doc e adesso prendiamo le carte salute di letta salute di letta la mia super doc ah scusami 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 non volevo offenderlo si chiama super doc e queste sono le sue super carte facciamo vedere velocemente sono delle carte con delle immagini noi dobbiamo per esempio la tavolozza dei colori pensare a che associazione può combaciare e noi la mettiamo ovviamente dove c'è il disegno perché la tavolozza dei colori serve per colorare questo bravissima cosa dobbiamo fare noi per vincere questa super doc tessera dobbiamo programmare il robottino per farlo arrivare al disegno bravissimo adesso che vi abbiamo fatto vedere come funziona iniziamo il gioco bravissimo pronti per giocare allora la prima scheda è di di letta vediamo di che cosa si tratta dove lo mettiamo questo bellissimo cappello di letta qua lo mettiamo lì allora devi programmare il robottino e farlo arrivare lì cosa gli fai fare vedo questo indietro questo no e poi che cos'altro gli fai fare di letta lo ricordiamo fa un po' facilitato perché ha solo quattro anni poi cosa gli facciamo fare brava poi brava brava bravissima e adesso vediamo come se la cava Liam questo è la super doc scheda di Liam dove la mettiamo amore la sciarpa? qua la mettiamo là e allora programma super doc c'è qui bravissimo il prossimo tocca anche la mamma lo prossimo lo fa aspetta che lo posizioniamo centrale la mamma cosa tocca la mamma un bel libro di note e il libro delle note lo mettiamo ma io lo metterei proprio qui sul pianoforte vediamo se la mamma riesce a portare il robottino mi sa che la mamma ha sbagliato no si è fermato sul gatto ho sbagliato e allora non ho vinto la super tessera la devo mettere da parte vediamo invece diletta diletta oh diletta è giusto per te questo dove lo mettiamo lo porti a nanna giustamente come il tuo come ci arriva super doc nel lettone 1 2 3 prima cosa devi fare per farlo andare lì 1 2 3 1 2 3 oh 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 l'hai girato troppe volte come fai adesso 1 1 devi prima girarlo amore brava poi 1 1 2 3 bravissima vai con l'ok super brava sei super diletta sei super diletta questo è la super doc scheda di liam dove la mettiamo liam dove la mettiamo amore ah ok 1 2 3 no perché c'è questa e c'è c'è due ah giusto giusto si fa anche le fa anche le somme liam è più avanti della mamma attenzione 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 eh 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 niente scheda per liam era difficile questo io ho detto due osse e adesso tocca alla mamma un altro libro per la mamma ma questo lo mettiamo è là nello zaino della scuola quindi bypassiamo il passo dai facciamo che tocca già a diletta super diletta eccola qua eccola qua questo dove lo mettiamo diletta tu che andavi anche a piscina ma il borsone ma certo come ci arriva è lontanissimo però prima cosa devi fare eh tesoro ma prima brava giralo no giralo fai ok fai passo per passo amore e adesso quante volte va avanti sei sicura a me non sembra eh sì dovevi fargli fare tutti insieme no patatina vai no devi prima girarlo con la faccia no devi programmarlo va programmato furbetta devi programmare che si gira tu non lo stai programmando così lo stai girando da sola si lo giri fai ok lo fai prima girare così è più semplice e poi conta quante volte devi andare avanti un due e lo fai andare avanti di due adesso sì super robot può andare in piscina ha portato gli occhiali eh sì e prossima super doc scheda per liam dove lo mettiamo? dal gatto vai liam vai super programmatore dai gotti oh sì c'è arrivato adesso io adesso io ci sono prima io prima io da 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 dove lo mettiamo il pestiolino? Nell'acquario Sì, vediamo se la mamma riesce a portare il pesciolino nell'acquario Eh già, ce l'ha fatta la mamma Eccoci qua, questo è per diletta Dove lo mettiamo il latte? Dai il gattino, lo mettiamo il latte? Beh certo, perché il gatto beve il latte E allora devi ritornare dal gattino Uno, due, tre Sì, ma prima? Indietro di quanto deve andare indietro? Uno, due, tre No, indietro di quanto? Uno E allora fai uno e ok Bravissima Poi lo giri Brava E poi va avanti di? Uno Di uno o due? Devi contare di quante volte va avanti Uno, due Eh sì, perché sai contare Prossima volta devi contarle tutte le caselle Vediamo la super scheda di Liam Dove la metterà questa Liam? Su in là Su in te Bravissimo Stiamo facendo andando indietro questo robottino Sì Sei super Sei super E adesso tocca alla mamma Aspetta che mi sistemo Super mamma Una super maglia Un super maglione Che è la mamma Guardi Io metti dove c'è una piccola pulenda Esatto E tutta una alga Lo mettiamo proprio lì dove ci ha consigliato di letta Vuoi metterlo tu? Vai mori È facilissima questa Uno Eh sì Bravissima Adesso però tocca proprio il tuo Questo era della mamma E Puzza 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 Dove lo mettiamo questo calzino? Qua Lo vuoi mettere lì? Sì Eh ma è già lì Allora non vale Te ne do un'altra Facciamo un super cambio Mi sa che qua non siamo molto fortunati Questo dove lo metteressi? Qua Dammi subito che lo cambiamo Eh una cosa nuova Dove li mettiamo questi amore? Maiali Sul maialino No Prima cosa deve fare il robottino? Girare Girare Lo fai girare E poi E poi raggiunge il maialino Guarda che la prossima non te la do giusta Devi farlo andare avanti Devi contare le caselle Altrimenti non va bene Sì ma devi programmarlo di tre No programmarlo ogni volta Ogni volta che fa una casella Tu fai la furbetta Va bene facilitato Ma no così tanto Dove andrà questo qui Liam? La oppure dove amore? Qua Ma io li metto qua Eh ma li metti dove vuoi È più facile là Qua è più difficile No qua Eh ma qua è più difficile Qua Eh ma qua è più difficile Eh ma non vale così Fate i furbi Volete fare le cose facili Adesso scelgo io le carte Allora vediamo per diletta Che cosa possiamo dare Ah tocca a me Tocca a me giusto Tocca a me E per me è stato molto semplice Perché basta portarlo Semplicemente dalla pianta Yeee mamma Questa è per diletta Dove la mettiamo questa la luce amore? Brava Devi prima far cosa? Brava No viaggio Vai vai Senza paura Conta di quante volte deve andare avanti E poi? No uno si ferma là Quante volte deve andare avanti? Uno due tre No quante volte deve andare avanti? Due 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 e allora devi farlo andare avanti di due Ok E adesso deve ancora girare Brava E poi andare avanti di? Uno Bravissima Così Brava Adesso tocca a Liam Mamma Dove la metterà questa lì? Mamma Io ho tattice Qua Sì Lì? La metti nello zaino? Sì Super got E bravo E bravo Liam Adesso tocca alla Mamma Sì Sì Oh proprio per la mamma Un super cuscino Io voglio portarlo Vai come facciamo a portare il cuscino? Nel lettino? Dove è il cuscino? Qui è il lettino Prima cosa deve fare il robottino? Vai Brava E poi? Vai atti Uno No No Portalo indietro Deve andare avanti di quante volte di letta? Uno E il letto è qua amore? Qua E allora quante volte deve andare avanti il robottino? Poi tre Esatto E allora deve andare avanti di tre Uno Quattro Vai Adesso sì Hai programmato bene il robottino? È io Il tuo è questo Dove lo metterà di letta questo? Come è? Come ci arriva il robottino lì? Uno Prima cosa fa il robottino? Va avanti di quanto? No No Torna indietro? Sì Deve essere giusto altrimenti non lo vinci Questa ultima super scheda di letta non la vince se non la fa giusto Eh concentrati di quanto va avanti il super robottino? Uno No È qua che si ferma il robottino? Qua Sì ma quanto va avanti? Di quanto deve andare avanti per arrivare qua? Tre Se lo fai andare avanti di tre senza farlo girare cade giù amore Tu lo devi far girare per fargli fare questa curva qui Quindi va avanti di quanto? Uno Due No Va avanti di uno e due Quindi fallo andare avanti di due Vai amore Programmalo vai avanti di due La freccia che va avanti qual è amore? Prova a vedere qual è la freccia che va avanti? Questa Brava Deve andare avanti di due Ok Poi gira Sì E poi va avanti di? Uno Brava Bravissima super di letta E adesso la ultima super scheda di Liam Cosa sarà mai l'ultima super scheda di Liam? Dove la mettiamo questa? Dice Sulla bici E qua Forza amore Che ce la puoi fare a portarlo dalla bici? Concentrati Amma Amma Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Ok Amma Non ci posso credere Anche all'indietro l'hai fatto programmare Sì Bravissimo Dimmi Adesso L'ultima schede abbiamo fatto E per questo video Abbiamo fatto vedere come funziona questo gioco di super doc bellissimo Con il coding del robottino E se vi è piaciuto questo video mettete Mi piace Mi piace Ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 Grazie.